E' di Messina il coraggioso carabiniere libero dal servizio che è intervenuto per sedare una lite in strada a Castellammare di Stabia ed è stato selvaggiamente picchiato da alcune delle persone coinvolte nella stessa rissa. Il carabiniere 37enne adesso è ricoverato in ospedale con una commozione cerebrale ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L'ha puntato di stanza nella stazione di Gragnano, era libero dal servizio e stava passeggiando con la moglie e il fratello sul lungomare di Castellammare di Stabia. Il giovane però non ha esitato a intervenire ugualmente per sedare una lite scoppiata per motivi di viabilità. E' stato allora che il carabiniere è stato investito alle spalle da uno scooter e contemporaneamente aggredito da sei o sette giovani che lo hanno picchiato selvaggiamente con pugni, calci e colpi di casco alla testa. Già assordito, il carabiniere si è accasciato al suolo quando i giovani, non contenti, gli hanno scagliato addosso un tavolino in alluminio di un bar vicino. E' stato poi il fratello del militare che si è frapposto tra il branco e la vittima, che intanto era a terra sanguinante. Gli aggressori a quel punto si sono dati alla fuga. A meno di 24 ore dal misfatto, i carabinieri hanno individuato e arrestato quattro persone. Tre sono maggiorenni di cui due pregiudicati e un minorenne. Con loro è stato arrestato anche l'uomo, un pregiudicato estraneo all'aggressione, che ha rubato il borsello al militare mentre era riverso per strada. Il giovane militare messinese è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabbia. Le sue condizioni sono stabili anche se ha riportato tumefazioni ed ecchimusi su tutto il corpo. Dovrà restare in osservazione per le prossime 24 ore e ne avrà per 25 giorni. Messaggi di solidarietà per lui sono arrivati da ogni parte d'Italia.